Pontino Muri, terza edizione, la Vigna Rosa presenta l'evento. Sì, un po' di libertà perché alcuni di loro è la prima volta che escono fuori dalla Palestina, quindi sarà un'esperienza mostruosa. Dopodiché sarà per noi, per la Sardegna e poi anche a Roma, perché a Roma andremo, un incontro con finalmente qualcosa di nuovo. Le cose che ci fanno vedere, spesso e volentieri in televisione, o ci raccontano i giornali, non sono vere. Vedremo negli occhi di questi ragazzi, questi ragazzi palestinesi, il prototipo è quello con la chefia che tira le pietre, il terrorista con la barba islamico, ebbene noi vedremo dei ragazzi che sono esattamente come i nostri, col desiderio di fare sport, di comunicare, di parlare della loro terra, di vivere semplicemente, liberamente nel mondo, come tutti gli altri. Un ponte con la Palestina, quali sport vedranno protagonisti i giovani di Gerico? I ragazzi innanzitutto faranno atletica leggera e calcio, quindi alcuni di loro sono molto, molto giovani, 13, 14, 15 anni, oppure 20, 21, quindi anche questa è una novità per il terzo stage, ma avranno la possibilità di raccontare la loro vita di giovani, di ragazzi in Palestina, e questo lo faranno venerdì 9 settembre nel Palazzo della Provincia, ognuno di loro racconterà la sua storia, la sua vita e anche appunto una vita sotto occupazione.